Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video Oggi vedremo il nuovo aggiornamento di Adopt Me Perché come possiamo arrivare Qua dentro scendiamo in un treno E vediamo l'abbigliamento che ne sono i vestiti Per i nostri pet Poi qua ci sta un minigame Che arriverà nella prossima settimana Cioè nella settimana 2 del nuovo aggiornamento E questo aggiornamento finirà il 4 gennaio Dunque avremo molto tempo per comprare delle cose Dunque qua c'è il calendario dell'avvento come lo scorso anno E penso il 25, il 20 dicembre Cioè otterremo un pet gratis E dunque questo coso, che cos'ha? Cioè questo non l'ho capito E apri le 20 porte del calendario E ricevi un'esca per il cucciolo dolce di Natale Dunque questo se lo buttate qua nel ventesimo giorno Avrete, cioè avremo un regalo Dunque penso che sia come i pinguini che tiriamo noi i pesciolini Su Adopt Me Dunque oggi è l'uno Dunque dove sta? Cioè ah l'uno Ah ancora deve aprire Cioè il giorno non è iniziato Dunque nelle prossime ore ne apriremo Qua c'è comprare Gingerbread Dove abbiamo con 7 Robux Prendiamo 300 Ehm 300 Poi con 40 100 Ehm insomma avremo Tipo c'è un Ehm Da un Ah ecco Cioè allora là c'è il minigioco Ehm qua da Billy Possiamo chiedere qua Allora Ehi ciao Senti qua ho un'offerta imperdibile per te E in cambio di 3500 bucks ti darò 70.000 gingerbread Shhh Non dare nell'occhio Voglio dare il via al tuo shopping natalizio Non ora perché non ho i bucks sufficienti Io ho 1500 E comunque se avete 3000 bucks potete prendere ben 70.000 gingerbread Quindi potete comprare il Cioè con più 5000 Cioè se avrò Eh Alti 70 Eh 70 Gingerbread Potrò comprare la cosa più costosa Nella settimana 1 di Adopt Me Poi c'è qua il passeggino Slit che costa 5600 Eh gingerbread E abbiamo la beluga Che costa ben 3300 E la compriamo Vediamo questa beluga Che sicuramente la farò Neon Cioè guardate che carina Beluga Balena Non ho capito che è la beluga Vabbè Poi abbiamo il drago Eh di cioccolato Perché vi ricordate che lo scorso anno invece avevamo Eh il bat dragon di fragola Dunque quest'anno abbiamo il drago pipistrello Con scaglie di cioccolato Costa 1000 robux E io me ne sono ovviamente comprato Eh ragazzi Comprato Raga 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 Che figo E con 25 Possiamo magari prendere Magari Cioè con 7 robux Cioè se avevate fatto una ricarica Dei robux E vi è rimasto 10 robux Ve li potete prendere su Adopt Me Con 7 robux E abbiamo 300 gingerbread E no 3000 Eh dunque Cioè che ne so Ci comprate qualche item Cioè ad esempio Con 300 Ci possiamo comprare Questa carta regalo Lanciabile Dunque ce la compriamo Eh poi abbiamo Questo Propulsore fiocco di neve Che costa 6000 Eh comprai un log Pogo stick 4700 Cioè di questo qua Che puoi convertire Eh dei bucks Ai gingerbread Cioè è la prima volta Che succede Perché io ne volevo Tanto questa cosa Che si poteva cambiare Ma anche con Che ne so Con 500 bucks Sarebbe bello Cioè Ah qua aggiungono tutti i pet Tra 13 giorni 20 giorni E così via E eh Andiamo Cioè io vorrei fare Il minigioco Ecco Cioè raga Ho parlato Cioè Raga Raga Ah comunque La festa invernale Finirà Tra 34 giorni Esattamente Il 4 gennaio Vediamo Prossima partita Tra 30 secondi Allora Oddio E' tutti ammocchiati Perché Cioè ragazzi Cioè Ma che bello Ma che bello Questo coso Eppure Leggendario Invece La beluga E' comune Cioè ma E' bellissimo E' bellissimo Questo C'è stato anche Nel 2018 Nel 2021 Cioè raga Era uguale E Nel prossimo Video Cioè vedremo Cosa avere Come gingerbread Cioè Come avere Dei gingerbread Cioè Come avere Più gingerbread Ah Io sono Mammut Io li sto aiutando Praticamente Cioè c'è scritto Squadra Mammut Ed io Ero andato In quell'altro Dunque Il premio Della squadra E' 3000 Che penso Che sia I bucks Ma non penso Oddio Dobbiamo liberarlo Oddio Oh santissimo Scusate Perché Io Di solito Ho la tosse In ogni video Se sentite Una tosse Oddio 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 Io sono Saltato Oddio Poi con questi Pinguini Dai Dov'è il Mammut Oddio Io ce l'ho Il mammut Oddio Oddio Cioè raga Raga Ma Si è tutto Buggato A parte Bellissimo Guarda Ragazzi Guardate Uffi Mi vedo il 20% Dai 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 Che ce la facciamo Stiamo vincendo Stiamo vincendo No Mi sa che stiamo perdendo Noi Stiamo perdendo Noi 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 Sì ma Il mio telefono Si sta palesemente Buggando Cioè Si sta palesemente Buggando Oddio Questi pinguini Levatevi 5% Vediamo Ok 9 7 6 5 4 3 2 1 Oddio Il tempo Rimasto Non lo so Qual è Ok Bene ragazzi Spero tanto che questo video vi sia piaciuto Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Lasciate un like Lasciate un bel commento E condividete questo video con tutti E Ciao Ciao